Ciao a tutti. Oggi parleremo del nuovo Twitter, che ha messo DreamIfConvisions, ha messo questo Twitter che mette una scritta in giapponese. Uno di questo Twitter può rivolgersi a Arden Cho o Amy Workman. Può essere impossibile che Arden Cho partecipi, però con Teen Wolf lei è rimasta a buoni rapporti, solo che veniva pagata più poco. Da Holland Roden e Crystal Reed può stare fuori dallo show, ma non fuori dalle reunioni. Per i fan è molto sicuro che sia quell'altra che ha preso il suo posto nel film, però ancora i fan sperano che lei può ritornare a far parte nelle reunioni del gruppo. Voi cosa ne pensate? Grazie per aver visto il video alla prossima.